Mister, partirei dalla lista dei disponibili o degli indisponibili che stavolta sono particolarmente numerosi, tra infortuni e squalifiche, ci saranno tante assenze, è così per domani? Sì, ma fa parte del gioco. Domani siamo in 20, abbiamo aggregato due under, Demma e De Pellegrin, e abbiamo riconvocato dopo 4-3 mesi in mezzo per la prima volta Gioffre, che ha ripreso allenarsi completamente con noi da 3-4 sedute, ma più che altro per fare il numero, arrivare a 20 e dare una soddisfazione al ragazzo per fargli passare il periodo buio che ha vissuto ultimamente. Per adesso sì, ci abbiamo trasqualificati, influenzati dell'ultimo momento che sono Frosali e Pinna, abbiamo qualche problema, ma io sono convinto che chi scenderà al campo sicuramente farà una grande prestazione. Ecco, Frosali e Pinna, Biondi è squalificato, il problema che salta subito all'occhio è quello di comporre il quartetto difensivo, il mister ha già un'idea su come schierare la squadra? Sì, ha dato la disponibilità a Marchi e abbiamo anche o Memuci o De Pellegrin come giovani, dobbiamo andare in campo con sci che siamo forti e dobbiamo stare attenti perché contro l'ultima classifica, di solito su quelle bucce del banano è più pericoloso, loro non hanno niente da perdere, perciò giocheranno a viso aperto e credo che sia anche una buona partita di calcio perché li ho visti giocare le ultime due partite, quando hanno avuto col Foligno e domenica, anche se non sembra il 5-1 roboante, però hanno avuto rigore, hanno sbagliato del 2-2 e hanno preso gli ultimi gol, gli ultimi 15 minuti, perciò è una squadra che prende con le pinze, ma noi vogliamo dar seguire alle belle prestazioni di domenica, risultato positivo e sto convinto che faremo un'ottima gara. Ecco, infatti proprio questo volevo chiederle quanto può contare anche l'aspetto emotivo, psicologico di una vittoria finalmente ottenuta giocando bene contro un avversario forte, questo per tutto il finale di stagione quanto può influire? Tantissimo, però per far sì che questo accada e dare un senso alla partita di domenica bisogna vincere domani, poi ci vediamo anche qui venerdì mattina per farci gli auguri e fare un allenamento, spero di farli con sorriso, come è stato fino adesso dal mio rientro, perché questi ragazzi vanno ringraziati per l'applicazione, per la costanza che mettono negli allenamenti, per la voglia e anche per i momenti difficili che stiamo un pochettino vivendo tutti quanti, no? Perché poi quando si vede solo la prestazione della domenica, ma c'è la settimana, c'è l'allenamento, ci sono tutte le cose che stanno attorno alla squadra del calcio e devo dire la verità che questi ragazzi sono veramente in gamba. Le chiedo un'ultima cosa a riguardo Persano, quanto può contare anche per il suo finale di stagione e la doppietta che ha segnato domenica? Un giocatore che era un po' atteso al salto di qualità da qualche anno, per la verità potrebbe essere questo, ecco l'anno della sua consacrazione in qualche modo. Assolutamente sì, perché è un ragazzo molto generoso, no? Però una punta poi, c'era un vecchio allenamento che diceva o corri o segni. Lui deve capire che una punta deve fare gol, deve fare gol e finalizzare il lavoro che fa la squadra e devo dire che nelle ultime due partite si è sacrificato tanto perché arriva sempre South, alla fine della partita ha fatto gol e sto convinto che è un giocatore che se riesce a capire il rapporto con il gol, come muoversi negli ultimi 16-20 metri attaccando la porta a un giocatore che può fare anche la categoria superiore bene.